Fantastico! Sì, ma che cosa vuol dire? Siamo molto contenti. E' duro, e' duro. Ma il Senato, per come è strutturato, è stato già deciso da questa Camera e da questo Senato nella 17esima legislatura. Non è che noi, come dire, ogni volta come la tela di Penelope si cuce di giorno e si disfa di notte. Camera e Senato hanno già votato una riforma costituzionale, i cui fondamentali sono stati condivisi dalle due Camere. Ciò che evidentemente la Camera ha modificato è ancora modificabile, il resto bisognerebbe spiegare al Paese, ma credo che nessuno lo voglia fare, per quale motivo un testo costituzionale approvato dalla Camera e dal Senato, dallo stesso Senato che l'ha approvata l'8 di agosto dell'anno scorso, ora non va più bene. E' una questione stagionale probabilmente.